Eccoci qua ben ritrovati cari amici, ancora anticiclone, ancora lui, ancora tempo stabile e quindi anche questa nuova settimana particolare sarà caratterizzata dall'anticiclone con clima freschino, freddino di notte, gradevoli le temperature di giorno, foschie e nebbie, abbastanza umido, quando invecchia l'anticiclone torna sempre più il rischio di foschie e di nebbie maggior soleggiamento sui rilievi, comunque anche in pianura il sole si vedrà però le nebbie e le foschie potranno insistere in alcune zone di pianura anche durante il giorno o durante alcune ore della giornata, per il resto null'altro da segnalare io per il momento cari amici mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, noi ci riaggiorniamo presto, arrivederci